Buongiorno a tutti, mi chiamo Mauro Zani, ho frequentato il Master in Lighting Design nel 2007-2008, quindi ormai 7-8 anni fa e devo dire che è stata un'esperienza molto positiva e molto interessante per diversi aspetti, anzitutto forse un aspetto personale in quanto il Master è stato essendo aperto a più paesi nel mondo, quindi ho avuto la possibilità di conoscere e di frequentare persone provenienti da paesi europei e d'est europei e di conseguenza di confrontarmi anche con culture e con figure professionali diverse dalla mia. Sotto l'aspetto formativo invece è stato anche qui molto positivo in quanto io avendo fatto ingegneria ho avuto il mio percorso di studi incentrato sulle materie prettamente tecniche e quindi ho avuto un interesse per specialmente il settore elettrico ed elettronico, quindi il Master mi ha consentito di apprendere e di approfondire tutta la parte diciamo riguardo all'illuminotecnia, quindi una parte che fino a poco tempo fa io conoscevo poco e che invece devo dire che anche grazie al Master mi ha molto appassionato e mi ha molto interessato. Inoltre il Master mi ha anche insegnato le prime nozioni del mio futuro lavoro, cioè quello di progettista e come ultimo aspetto forse anche molto importante, il più importante è l'aspetto lavorativo, infatti il Master mi ha dato la possibilità di entrare in contatto sia con aziende ma con studi professionali del settore e quindi mi ha permesso fondamentalmente di fare il lavoro che mi piace e che trovo molto stimolante, molto gratificante durante tutti i giorni. Quindi un mio consiglio se posso darlo è quello a tutti coloro che sono appassionati del mondo della luce, del tema della luce, che vogliono magari soltanto conoscerlo di provare anche loro a fare questa esperienza.